Salve a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Hearthstone, siamo arrivati a la sede a 6, siamo contro un gun sparo strambo, evoca animali offese e animali che offendono, vabbè vorrei andare a vedere se offende anche noi, penso di sì, presumo di sì, ci offenderà, 6.000 monetine quasi, andava a fare la sfida con Taiga per beccare altre monetine, ok, ma come, vabbè sì giusto perché offende ragazzi, quindi sì, ci sta, hai detto che siamo un paladino petulante, ma perché? Oh, ottima buona mano, considerando che abbiamo l'erbo-bombe all'inizio, è un'ottima mano dai, sì, visto che di turno 1 noi possiamo anche fare aero power senza problemi, turno 2, non userei la campana, ma farei 2 hero power Ok Eh sì, incredibile Aia Ah ma va tutto faccia con, vabbè ragazzi Taiga tossisce, fa casino, che ci devo fare, mica la posso accoppare, cioè Vabbè Vabbè Allora Campione solitario Scudo divino Grido di battaglia, se non controllo, vuole sempre essere protagonista No, vabbè Ma cacchio però Vediamo se abbiamo fortuna con le robo-bombe Magari di pulire, sì, 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 sì Forse abbiamo fortuna Yes Qui, 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 qui Tantissimo Allora noi infieriamo ancora di più Altre reclute Abbiamo quello che pompa le reclute No Bene Alla battaglia 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 Va bene Allora 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 Si fa così Vabbè metti questo Sono tutti 1-1 Che palle Mi hanno mercato tutti 1-1 Va bene Vabbè a 1 alla volta Lo stiamo tirando giù Eh pieno di servitori Sì Ah più 1-1 Poi attacco 1 Vabbè Ok E vabbè sto pieno di ste robe Porcaccia la miseria 1-2-3-4-5-6 Schianta questo Che è successo Ah ok Va bene Cercare di Togliermi Ste cose Per Evitare di riempirmi la mano E facciamo così Eh si È vero Perché è una bestia in gramia Giusto Giusto E poi con una famiglia animale casuale Ancora sto tipio Tipio Ancora sta magia D'accordo Ma sei scemo Muore il tuo Vabbè Contento lui Va bene Ok Evoca 5 reclute Mana argento Però non abbiamo ancora Quello che le pompa Quindi Non serve un tubo Evochiamo le nostre reclute Va Questo lo tiriamo via Così ne evochiamo un'altra Usiamo anche l'ultima carica Della nostra arma Vabbè a uno alla volta Il combattimento è abbastanza lungo Però Vabbè stiamo dominando Ok Abbiamo sciamato come dei Dei maiali Ok questo è Un po' così E' un po' così Questo non mi piace molto Le carte abbiamo in mano 7 Ne butto 3 Ok Va bene Va bene Va bene va bene Va bene Per forza Buono tutti Il tuo segreto No Ok Non c'è problema Per le nostre reclute Perché noi Rimpinguiamo Ok E Magnetismo No Ciocchiamo quelle che abbiamo In mano e basta Perfetto Mo' servirebbe veramente Quello che potenzia le reclute Oia Ora mi serve Ora 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 No 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 Vabbè allora siamo obbligati A fare una roba del genere Eh per forza raga Eh si Obbligati Alla battaglia Alla battaglia Alla battaglia Alla battaglia Alla battaglia Ok Ok pronto al tiro Un altro segreto Ancora Ancora quello Meno male che non Spam a carica ogni volta Eccolo qua Quello che adatta Proprio adesso Mi serviva 549 Va bene Alla battaglia Alla battaglia Alla battaglia Alla battaglia Eeeh Così Fortività D'accordo Avrei dovuto schiantarmi Una in più Ma non sono riuscito Insomma Eeeh Vabbè Per giocare questa Però schianterà lui Sì Qualcosa Ok Perfetto Adesso le adattiamo tutte Molto bene E gli diamo Fuori del vento Oddio E' quel segreto lì che Vabbè ci proviamo Poi c'è il segreto schifo Vabbè Bella per lui No aspetta Sto capire con questa Ok Non è quello Quindi Si prende un sacco di botte Tante botte Tante botte Questa roba Ok Bene Siamo andati alla battaglia Credo Ok Spara qua E qua Va bene Quello fa male Parecchio male Ok Abbiamo 8 danni in campo Eeeh Reno Jackson Oddio Non ho 2 danni in più Da fare No Non ho 2 danni Ho carica Non ho carica Alla battaglia 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 Stiamo andando alla battaglia Ok Non ho paura di nulla Ma non riuscirà a tirar via Tutte queste Spero Va bene Invece D'accordo Va bene Aia No Non riuscirà a tirare via Dai Ok Perfetto Eeeh Arrivato l'altro L'adatta Noi ci curiamo Full Eeeh Finiamo Ok Stato un po' più complicato Questo combattimento Un po' più lungo Del solito Però Siamo riusciti A venire fuori Dai Probabilmente in tempo Perché visto che sta evocando Roba abbastanza grossa Ne noi non abbiamo roba grossa Ok Quindi Piccola armata Basta Perché credo che Eh no No Basta Adatta le tue reclute Mano argento E questa qua Per le mano argento Va bene Abbiamo anche già troppe Più due Più due I servitori nella tua mano Non è male Potenziamento Potenziamento Sì Potenziamenti ragazzi Proviamo a potenziarci Vasno 7 di 12 Ok Credo che questo sia Al 7 eravamo morti L'ultima volta Non mi ricordo Mi pare di sì Vediamo se quest'altro Riusciamo a farcela Col paladino Non abbiamo quello Che ci dà suggerimenti Quindi tanta roba Ok Vasno Sto arrivando Sono qui per ottenere vendetta Ah pure Per vedere quando possono essere Esplosivi gli elementi Ah ok Va bene Caro il mio amico Pugliese Penso sia Non lo so Due Al due No Porca miseria Come cacchio faccio a tenere queste carte Non è possibile Non posso tenere queste carte Cioè questa è fortissima Però mi piacerebbe tenerla Questa infligge tre danni Pesco una carta È un peschino Però No deve essere più veloce Ok devo essere più veloce Non può Non posso tenere quelle carte lì Perfetto Ok Molto bene Questa mano è proprio quella che volevo Per essere più veloce Ma vaffan Cacchio Ho cambiato due carte da 4 Ma sono venute solo Le due da 4 Adesso metto il deck tracker Per farvi vedere ragazzi Che cacchio Cioè Non è possibile Questa cosa Non so se venga fuori in video Il deck tracker Credo di no Perché lui cattura il gioco Non il deck Bene Ok Va bene Ok Hai No questo non lo batterò mai Questo non lo batterò mai Perché Quando gioca una carta con sovraccarico Viene lanciata due volte Io non ho Oddio Non ho speranza Credo Non ho speranza Contro questo Questo mazzo Non vada molto bene Proviamoci E spacca lì E va a faccia con tutto Ok Lo divino qualcosa No Eh scusate Le reclute Va bene Le reclute Questo Può aiutarci Momentaneamente Però Devo per forza Giocare questa E proviamo così Ok Cacchierola Vai Dai Bastardo Forza Spacca qualcosa E niente ragazzi Abbiamo perso sta carta Bene Perfetto No l'abbiamo perso Ok Perché lui va a faccia Probabilmente per proteggere questa Bene Ispirazione 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 Spacchiamo questa Mettiamo questo Quanto spazio abbiamo Cinque Ce ne stanno due Quindi questa No Evochiamo le due Una recluta E fine Ah che palle Eh non c'è niente da fare Perché lei evoca due volte Ebbè Sì Vabbè ma pulisce da solo Ma sei cretino Mo stavo in difficoltà io Ok Vai così Ho proprio quello che volevo Poi ci metto un attimo Riempire Ma sì Vabbè che anche lui Non scherzo Ah cioè Si è sovraccaricato Talmente tanto Che non ha più mana Ok Vai col grosso Beh questo Se lo potete risparmiare Comunque Vabbè Tenemoli l'uovo Ecco questi sono da tirare via Ragazzi Perché se gioca sovraccarico Questi ci pompano di due volte Ok Vabbè ha tirato via il grosso Però il suo effetto L'ha fatto Addio Due volte No mi sembra che si sia pompato Una volta Non abbiamo niente in mano Ah no ok Veleno Possibile Tra attacco Tra attacco Non basta Più uno più uno Non basta Provocazione fa schifo No tra attacco è la migliore Ok E E niente Dobbiamo schientarle Per poco Qua gli diamo Scudo di vino A qualcuno A qualcosa Ok Allora attacca tu E questo va Faccia Faccia Mettiamo Giù lui Che è sempre una garanzia E L'uovo runico Poi vi spiego il perché Faccio tornare in mano Un servitore Eh sì Eh sì Faccio tornare in mano questo Yes Serviamo la mossa Vai Vabbè Ah ok Pulisce Va bene Uh ci siamo rimasti con una melmina Che bello Ah c'è delle magie che fanno schifo Sto tizio eh Allora Eh Questa è troppo rischiosa adesso Ma Tornato dopo è molto buona Quindi facciamo così Eh Facciamo così Giochiamo la spada E stiamo a posto così Vai Se pulisce ancora O se gioco qualcosa di troppo forte No Sto troppo sovra caricato Ok E quindi noi facciamo una roba del genere Quindi Uno due tre quattro Cinque sei E sette Vai Più uno più uno Evoca delle piante No Più uno più uno Anche se le piante Non mi dispiacevano Insomma E peschiamo dai Uh Buono Casuali E altri due casuali Questo Ok Viene una carta con sovraccarico Sovraccarico Bene Un'altra carta con sovraccarico Quello non serve un cacchio Vabbè Viene due carte con sovraccarico Ancora Ohi Quello invece Non mi piace Questo Ah no Ok Va bene Ti è andata male Allora Vediamo un po' Come possiamo fare Possiamo fare sicuramente così Cinque Sei Evochiamo queste No Facciamo così 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 E così Evochiamo lui che si attiva Perché adesso è da solo Evochiamo queste Evochiamo una recluta E fine No Non lo uso l'arma Grandissimo Sovraccarica Sovraccarica Ok Stiamo andando alla battaglia Quindi Tanta roba Ok Due scintille con Quindi quattro Con assalto Evoca Goal Indigiada Allarma Perfetto Riesce quasi a Pulire Pulire metà Del nostro campo Anzi Lo pulisce tutto Credo che ce ne rimanga una Sì Farla prima con la magia Comunque Ah no Me l'ho dimenticato Il segreto Quindi qualcosa ci sopravvive Almeno tre Sopravvivono Giusto Almeno tre Sopravvivono Sì I calcoli sono giusti Ok Questo però Mi serve E facciamo così Così Poi vi spiego perché È così Questo ha nienta Ci pompa tutto No Ci pompa questo Vabbè No Vabbè Guarda ho fatto una cazzata Perché ho spaccato l'arma Vabbè dai Facce Ok Bravissimo 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 Ah va facce Vabbè Non mi ricordo Cosa abbiamo giocato qua Cosa abbiamo giocato Tra attacco va bene È quella E basta Bene Oddio Eh vabbè Adesso verrà solo la magia Quella che spama Tipo la campana Quella Tong 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 Che lei la Praticamente spammava No Più due più due È tutti quelli nella mano Vabbè Evocchiamo questa Un sacco di armi però Ok Vabbè sto giocando con trial Ma perché sto facendo così schifo A giocare Oddio Eh È tovdeccato male Vabbè comunque è morto ragazzi Vediamo di fare i fighi Dai Adatta Adatta Niente fuori del vento Vabbè Vada 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 Ok abbiamo fatto Con un po' di difficoltà Si è giocato molto Molto male Va bene In realtà avevo giocato Meglio la partita In cui ero morto In questa qua Che l'ho giocata malissimo E l'ho vinto Quindi va a culo a volte Ehm Ok E io ce no Almeno per un po' Ehm La scatola resta nella tua mano Si trasforma in un Mette una mega robobomba È troppo casuale Cioè Devi giocarla a cinque Poi Arrivi in un servitore leggendario Non avevo qua cinque coppie Ehm Cinque coppie dai Cinque coppie Anche se lo dobbiamo giocare nel lead Game Cinque coppie sono tante Poi lo rinvengo Questa è casuale È troppo casuale Cioè No Non la prendo Cercare di finire L'avventura Non di Ok Evoca due coppie Di se stesso Proviamo a prendere i potenziamenti Vediamo se riusciamo a farci Con Qualcosa Questa roba Questa è l'ultima Diciamo Perché è 8 di 12 Però Dopo ci sono le 4 extra Giusto Si Fai in modo che L'instabilità Dell'universo Volga a suo favore Vediamo se riusciamo a A spaccarlo Vabbè Noi ci proviamo Ma tutto il tempo Stiamo andando avanti Eh in realtà un po' Vabbè Facciamo l'ultima Ciao Lì Eh Sono qui Per ottenere Vendetta Non oso sprecare Energie con quelli Come te Ok Va bene Ok Non oso sprecare Porca miseria Ed è un po' Bombe E No perché Tu vi smerchia 1 Grazie In testa Ok Guardate Potrei anche rischiare Di farla così Forse faccio fuori tutto Con 1 Ma guardate Io cioè Me l'aspettavo Cioè Era già andata bene Che è andata qua E non è andata a faccia Mi sembrava che C'esse 1 E non 2 3 4 Ok Ehm Vabbè Proviamo Proviamo a vedere Se riusciamo A inserire Nella nostra mano Altre 3 carte Ah vabbè Grazie Ok Però Ogni giocatore Pesca 2 carte Non sai mai Che cosa usci a fare E che mi ha riempito La mano però Quindi Cerchiamo di liberarla Il fatto è che io sono uno Che si riempie spesso La mano Più uno danni magici Danni magici Mi interessa Un bel po' No No Gioco questa Gioco questa Gioco la recluta E gioco Ah no Basta Vabbè Quindi facciamo Così Facciamo scintille Uè bomba Dai è però E niente E vabbè Niente niente C'è un tubo da fare Aia meteo Meteora Mi hai salvato la bomba Grande La bomba si può schiantare Va bene Va bene dai Tira via la recluta Non importa Ragazzi Le tira via 2 No Non ne tira via 2 Ok Va bene Me le lasci su Ste tre recluta Sì Me le lascia su Allora ok Ne evochiamo un'altra E le adattiamo Fuori del vento Più uno più uno Più tre salute Proviamo più tre salute A vedere se Ci va bene Dai Ok Perfetto D'accordo Lo tengo Vediamo se vince Eh si ha vinto Ha vinto Vabbè no Uccide solo questa Che ha vinto a fare Ok Ok Non ha vinto un tubo Non ha vinto Ehm Tuttuttuttuttutt Alla battaglia Perdi Facciamo potenziare la mano Alla battaglia Alla battaglia Alla battaglia Cosa ci ha pompato Finito Ah Vabbè Geppetto Ehm Vediamo un po' Adesso No niente Ups Le tue parole saranno dimenticate Esattamente come Tre missili arcani Eh cioè tre missili Superiori Grazie Missili superiori Questa però viene Ehm Anientata Quindi Questa potenzia Questo Ok Quindi Un'altra due Reclute E poi Le adattiamo Veleno Anche se lui ci può pulire il campo con la magia Però Almeno se evoca Va bene Almeno tiriamo via con un 1-1 Ah Cosa ci Aia Questa è buona Però la pescata Non è che mi ha pescato Oh mi ha pescato una copia Eh no Ha pescato il servitore Eh sto cazzo Va bene 5-6 Devo trovare il modo di Ucciderne una Ok Ah non la abbiamo più Mana Perché giocando sto stro Eh beh Giustamente Questo non viene Inientato Questo si Allora Un momento Fatemi ragionare bene Ha pompato lui Questo purtroppo Li devo tenere vivi Li devo tenere vivi Perché mi possono servire Per abbattere altri Tipo Yoxaron No Yogi No Fermati Yogi Fermati Yogi Yogi Buono Buono Cuccia Cuccia Yogi Cuccia Bravo Sei un figo Vai vai No Aia Yogi Fermati Basta Basta Non farlo Vabbè cura quello Pesca due demoni No gli imp No gli dare gli imp No A te stesso No Yogi Ok Bravo Sei stato un figo Va bene Cos'è sto segreto Del ladro Quindi Immune No No immune Quindi visto che No immune Facciamo a rapporto Ebbè Delle armi No Scusate Cioè qua si prende Delle botte da panico Cioè Perché no Vai Ok Grazie Grazie Yogi Uh Pecorella E' andata la pecorella Che fai mi copi? Del mago Vediamo No Che fa questo L'antolo di morte? Ah riduce Va bene Ah ok Va benissimo Tanto io volevo giocare solo questo Volevo che mi morisse qualcosa Per giocare quello Sostanzialmente Bene Vai 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 Oh Che cazzo Ah no basta Finito così No Blocco di ghiaccio Fottuto rompipalle Senti i rintocchi della campana Ok Ok Tyrion è ritornato Buono Insomma 5-9 Era un 6-6 5 danni? A chi? A quello Vabbè c'è Tyrion Ma mi sta copiando Ma mi sta copiando Letteralmente Eh no Non basta Mi spiace Va bene Evocchiamo 5 di ste cose E mettiamo fine al duello C'è il combattimento Volevo dire Sì È andata bene È andata bene Vittoria Grazie Niente ragazzi Allora A questo punto qua Il Noi siamo bravi a fare questo Comunque La magistra Norroa Non c'è tempo per leggere la descrizione Sbrigati Non è che gioca con No Dormu Ah 25 secondi per completare il turno 25 secondi Ah 25 secondi sono Aspetta Vabbè Lo vedremo nel prossimo episodio Ragazzi Perché mi devo fermare qui per forza Altrimenti il video va troppo per le lunghe È già durato 30 minuti Quindi Vabbè Ci vediamo alla prossima Sempre ragazzi Nei commenti Infatti Nei sapere la vostra E mi raccomando Se volete Supportare il canale Condividete il video sui social Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao raga Ciao raga Ciao raga